Grazie, grazie per la selezione musicale e un applauso gigantesco alla nostra agenzia di spettacoli Vada di Ilocca, un nome e un'eroganzia Vi presento, io vi chiamo Angelo e vi saluto E' stato un piacere stare in vostro video stasera Sentateci su Instagram, così trasporti Ciao a tutti Buonanotte E ora Tipo Palli Sono Morositas Non ho visto, aspetta, non ho sentito soprattutto l'applauso fortissimo per questo gruppo fenomenale della Sardegna Sono stato qua dalla prima all'ultima canzone Siete stati fortissimi, vi porto a Radio 105 Tu Angelo, rimani qua Le tre Morositas me le porto in radio No, 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 guarda, siamo una cosa unica Non ci puoi separare Allora, posso fare una domanda C'è qualcuno che ascolta lo Zodio 105? Tutti! Ok, io da questo momento non ho ballerine Ci sarò soltanto io, vi dovete accontentare Però ho portato dei gadget da Radio 105 Tipo delle magliettine Che lancerò sempre e solo Dove sento urlare di più? Non è piaciuto, non è piaciuto Come, come, come? 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 Mi piacerebbe sentire il confatto voi che fate Così Io vorrei 30 gradi adesso Io vorrei 30 gradi adesso Da questo momento si balla Su, su! Siamo sopra la pelle T'apparezzata, sembro benigiana Come? Non so fare tutto il giorno La faccia, la stessa Sì Andrano dove vengo Sei male e maldita C'è Ma poi solo Stai sempre a venire Doh Sì Mi pitch Ma l'idea I love Sì Sì Come, come? Come? Mi stessa troppo Baby non fare foto Tu non devi mai fare Guardare per questi qui Lo sai che noi siamo uguali Non voglio amare solo Mi sembra la tua voce Solo voi Ah Quante bella figura che abbiamo Il Facebook ufficiale Nella Proloco Di Maracanagioni Che sta facendo il video Quindi comportateli bene Mani in alto Su, su! Baby! Forse lo vuoi Che mi Tutto! Поэтому Lo cheio Che mi Mi Che 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 Grazie! Grazie! Grazie!